no iban il vivi lanciarlo in moto dato io ti do questo il mondo dopo questo ultimo questo per il lanciarlo in moda no grazie aspetta che significa e so quanti quanti lanciano in sono 1 2 spett 2 vero allora no se sono due se vuoi ti posso dare fino a 800 di raggio per tutte le tre cose obbindirà uno subito se vuoi settecento di raggio più 200 efficienti ragazzi si mette nella trasmissione chi viva un lancio allumin moddato c'era se lo fate proprio io diventa il bambino di felice il mondo ma stai guardando la live io si eh però io voglio io voglio ma io voglio lanciarlo in moda eh bro eh bro non lo scambi cioè lo vendo se vuoi 4 euro ora easy peasy subito now droppalo c'è il coraggio adesso tanto sono droppalo c'è il coraggio adesso sono pure in live ok l'ho appena droppato a posto l'ho ripreso guarda la live guarda la live oh droppalo a posto vabbè vabbè non è vero allora si vuole un botto ti ho questo ma questo è mo tingato ti ho questo no troppo lo c'è il coraggio troppo te se c'è il coraggio troppo te se c'è il coraggio eh e tutte le tue armi troppo troppo se c'è il coraggio troppo se c'è il coraggio dammi 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 manco lo volevo prendere raga avete visto ah ma è davvero lega shish grazie bro me lo vado a mettere nel deposito dai fra oh dai fra oh ciao dai fra cosa dai fra non lo dai no l'ho già messo nel deposito mi dice dai fra oh cosa c'è non lo dai cosa non ho preso niente raga raga è vero che non ho preso niente scrivete scrivete nella live se è vero che non ho preso niente no no ma io non ho preso niente bro no no bro non ho preso niente dove vedi l'arma l'ho pagato pure hai pagato ma checca no scherzo ma checca eh raga vedi lo dico pure in live che non ho preso niente che non ho preso nulla dai oh ma se tu non hai amici vabbè eh fra sul serio non c'è niente se tu vedi qualcosa non sanno io allora boh non so bro io non vedo niente raga dai vedete che c'ho qualche arma che c'ho qualche altra arma ti prego dai Ivan vedi vedi dicono vero che non c'è neanche una che c'è nessuna altra arma fra lo dicono Ivan ti prego cosa ma in serio me la dai 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 oh no me la dai prima la devi prendere dai 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 ma è qua sopra però non è mio no non ci arrivo e provaci c'è sempre un metodo c'è sempre un po' c'è sempre un po' c'è sempre un po' io droppato le mie armi e adesso te droppa eh non sai dropparlo questo e dropparlo solo così davanti a me senza niente e vediamo perchè dovrei eh perchè io l'ho droppato le mie armi ma io non le voglio droppare eh ma lo devi qui dai glori non si spamma in maiuscolo eh non si spamma non si spamma né in maiuscolo né in non si spamma nelle faccine hai droppa? cosa fa lei qua? cosa fa lei qua? ma adesso me lo regalo ma non lo posso regale legale non lo posso regale allora se me lo dai giuro che vado a compro mi ce mi compro un lanciallo in congelato un litro d'acqua e te lo do a 100% dentro te lo giuro ma prima compralo ok lo compro lo compro non è vero facciamelo dal mio amico se vuoi la invito nel party cosa? però te andai molto bravo come faceri più con l'energia ma se prima lo chiedeva al 130 ma lo voglio più al 130 ma lo voglio più al 130 voglio uno nel g ma non lo voglio droppare e lo vuoi è troppo lunga la strada per dropparlo però troppo di raggio solare e fai quello che vuoi ho 100 di raggio solare o quello cosa? 100 di raggio solare o quello? di cosa? devi sentire il troppo sentire il troppo sentire il troppo ma perchè lo trovi di droppare ma è troppo lunga la strada ti voglio qualcosa ma se tu ma se tu ho regalato prima tre armi al 130 cosa vuoi di più? vuoi te io? ma fai sul serio? ti rido se mi dai non c'è lento dai ti prego no perchè hai mutato perchè hai causato il messaggio di Lori no no ma era bello quel commento quale? niente niente un commento una macchina che spara cacerelle no no ok 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 il messaggio di Lori era bello perchè l'hai buttato via wow lancia l'halloween a 106 wow davvero allora dammi 4 euro in peple se vuoi la mia email c'è la mia email ho trovata ok bro non stai facendo niente lo so già oh ho trovato mi sono accorto e c'ho lanciato l'emoddato elemento focus 130 wow come può essere emoddato c'è l'emoddato c'è tipo tutto rosso davanti è legacy non è emoddato sono fortunato? no non vale niente varrà davvero venti di raggio infatti non lo so non lo so quanto vale 200 fra allora fra tu ti do questa 130 legacy la rifti dove c'è via 30 lega sui perc senza di boccia l'elemento mi dà qualcosa male mi dà questa 130 sul perc il senso tacchetti e l'elemento da fra merito a voi no 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 non devi non ciò no 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 non è bassa solo lele 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 palla non c'è gioco ma lei non c'è gioco non è un certo di gioco ah no io voglio leggere la zimotà e la zimotà vieni qua vieni qua un secondo però vieni qua un secondo però dove sei qui arrivo dimmi loro dimmi loro lori stai lori lollo stai ancora guardando scrivissi o no ma se ci sta sparando allora non è un'arma legacy ok ti potresti girare ecco lori ho eseguito il tuo volere ma è bassa ti piace no io voglio solamente lanciarli quale moda ci sta vero? cos'è questo? che palle che erosico poi seguimi pure a me dici? mh se ti mando un iscritto me lo dai? no se ti mando 10 no 20 miliardi no ho ruttito che siamo depressi ogni amo Rocco ma a te sto buttando l'anciallo in via e sta per scomparire è scomparso l'ho buttato giù com'è buttalo e buttalo giù? si non ce l'ho più no no non ce l'ho più non ce l'ho più proprio stavo per cadere anch'io l'ho non so come andare no non ce l'ho andata no ma stai bene? no non ce l'ho andata no ma stai bene? tutto a posto tutto a posto raga che cosa sta succedendo? per un'arma raga raga cosa sta succedendo? raga 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 mi stai mettermi a piangere scrispe non fai sul serio vieni su lari è molto probabile ma davvero sai piangere è che sembrava un po' finto davvero mi dispiace no bro non metto mad così devo guardarmi un bel paio di giorni ma bro se io tipo faccio si cosa guarda non non è così vicino non più vabbè lo vado a buttare sul serio stavolta no no aspetta che faccio mi vedrai aspetta che faccio una finestra da qui così mi vedrai tornare guarda vado in giù lorenzo porca vacca e niente ciao ciao oh oh è andato via hai visto che è scomparso dalla mappa non non è vero cosa non è vero non è possibile non è vero non è vero non è vero non è vero ma che cazzo è la ha è la ma non ce l'ho più bro non posso fartelo vedere hai visto che è scomparso non è vero quindi cosa facciamo? quindi cosa facciamo ora? bro bro cosa facciamo ora? vuole lanciarlo ma non ce l'ho come faccio dartelo? no ma non so come fartelo darlo non so come dartelo ma come faccio dartelo non ce l'ho più non so come faccio dimmi se mi dici come faccio no non è possibile no 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 dada Voglio me la cia a lui I zafai ce l'ha Non pensa Voglio me la cia a lui Vabbè bro sai che Allora ti spiego Se io butto una roba nelle nuvole laggiù Allora funziona così Finchè non abbandona il mondo L'arma me la posso ancora riprendere Facendo soltanto dei passaggi Però Cioè che non ti posso dire Quindi No Ho abbandonato il mondo Ora l'arma no davvero non ce l'ho più Fra Dove sei scomparito Fra sei scompariuto Fra sei scompariuto Fra Ma sei scompariuto Se sei scompariuto cosa Fra Sei scompariuto cosa Mi ho abbandonato Abbandonato Bro Cosa hai fatto? Cosa hai fatto? Entra un secondo nel mondo con me Ok Bella Francesco Avvio un'altra partita Un secondo Bro ma stavi davvero piangendo Bro Bro Stavi davvero piangendo? Sì porca Oddio No Nooo si freddi Sta entrando Ah si Cosa? Sei serio? Sei serio? Sei serio? Raga attenzione Ora si Si trasforma in Ultra Saiyan Raga attenzione Oddio mio Sì Cazzo si è trasformato in Ultra Saiyan Davvero sei serio? No No Me lo ridai Davvero? Sì Me lo ridaresti Ok Ah ma me la Me l'hai ridato sul serio Raga Raga me l'hai ridato sul serio Chat 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 una domanda Ma voi ci credete o no? Io Io sono resto Raga ma 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 no Dai così mi Mi fai disperare Ma no dai Ma no dai Ma no dai così Dai mi fai disperare un po' Perché avevo avuto questo? Perché T'ho bullizzato Ora Tocca nel mio momento Di give arti Non è come in tutti quei video Bellissimi che fa Mister Peto Quattro HD Eh Boh Lo faccio anch'io Cioè Scusa Lo voglio fare Lo faccio No Ora che ce lo sembra Una persona normale Solo a me sembra o no? Perché sono felicissimo Ma non sembra Come non sembra? No Come non sembra? Come non sembra? No 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 Per caso c'hai spago filato Cosa? E' lo spago a livello 1 Spago filato? No Mi sembra giusta sta cosa Tieni tutta per te Cosa?